Il mio nome è Francesca Petrini e vengo dalle meravigliose marche. Sono finita tra le 22 statuine per meriti della fattoria Petrini, un'azienda marchigiana produttrice di olio di oliva, perché ha saputo abbinare alla tradizione l'innovazione con un prodotto molto importante per la salute. Facciamo agricoltura biologica da ben 30 anni, portiamo il nome della nostra bellissima regione e quindi anche dell'Italia nel mondo. Se dovessi dare un consiglio ai visitatori che vengono appunto a vedere la mostra, direi vedete l'Italia cosa è capace di fare. Quindi questo deve essere un grande momento per l'Italia, per un grande rinascimento italiano. Grazie.